ma bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui sulla ruota dei colori perchè oggi ragazzi come avete detto da titolo proverò a fare una challenge incredibile ovvero che è quella di che consiste nella ruota dei colori ovvero il bianco serve per fare la challenge di guardare solo me stesso e non davanti il nero la challenge più difficile che non riesco a fare è la challenge che sono solo doppi salti però ci stanno anche dei bonus ovvero il color rosso serve che vi dovete iscrivere al canale sempre naturalmente facoltativo però mi fa piacere se fate questa challenge e se esce il blu dovete lasciare like ok partiamo dal colore bianco anzi no dal colore nero dove farò più casino con questa mano sto tenendo il tablet quindi non sto spostando la ruota ok comunque poi come faccio ok teniamoci qua con questa mano premo ok via sto premendo velocissimo guarda anche per la precisione proprio per farvi vedere io non sto toccando ok non sto toccando no no ragazzi la challenge quella lì no ok dobbiamo farla la cosa più brutta al mondo quella di guardare solo e soltanto noi stessi raga no non ce la facciamo è impossibile anche con icx no ragazzi non ce la faremo mai voglio fare solo il trick iniziale poi se non ci riesco rispondiamo all'inizio ok non ce l'abbiamo fatta va bene rispondiamo all'inizio partiamo con la challenge vai è quella di fare così no ragazzi è impossibile guardare solo noi stessi perché non so dove sto andando provo a fare anche i trick raga è impossibile stiamo guardando solo noi stessi eh solo e soltanto noi stessi non sto capendo cosa devo fare ok sto guardando solo solo mi stessi raga veramente non sto guardando da nessuna parte raga è solo solo impossibile infatti manco ci qualifichiamo va bene almeno è finito già questo inferno ok ragazzi ci siamo ritorniamo sulla malefica vuota iniziamo e andiamo vai non lo sto più toccando like ok dovete lasciare like a questo video rigiriamola perché era il bonus ok via vai no aspetta ho girato male ho girato male deve girare più veloce non gira questo vedi che gira piano ok ora dovrebbe girare meglio no ragazzi gira sempre piano non so perché gira piano un attimo proviamo a fare così se ora faccio così no non va ho trovato ok ora gira più veloce bene adesso questa è quella ufficiale no 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 i doppi salti no rigiriamo no sto scherzando dobbiamo fare la challenge in caso è uscita iscrizione però non vi dovete iscrivere perché non siamo ancora lì quindi facciamo la challenge ok ragazzi stiamo entrando dentro stumble guys molto bene intanto va bene abbiamo il tablet challenge dei doppi salti si ragazzi io non so se vedo i doppi jump non li so qua spingo around io cerco di non fare nessun doppio jump ma dobbiamo sempre farli purtroppo ora qua sto seduto un dopo niente qua sono doppio salto doppio salto doppio salto doppio salto ancora doppio salto guarda che è difficile però mi sa che completiamo la sfida no non è vero dobbiamo farlo sempre in finale ok va bene quello non so se va e va però credo di no ok quello lì intanto sta volando la cosa più brutta di questo gioco quando spingo around quel cosiddetto ti sballottolano è una cosa incredibile ti fa venire voglia di quittare dal gioco e non giocarci più per sempre però purtroppo rimani sempre in partita dopo gli avversari ti passano davanti e purtroppo perdi miseramente intanto questo qua che è stato sballottolato 20.000 volte si qualifica non lo so c'era uno dietro pronto a saltare lo sto guardando a fianco almeno si è qualificato va bene si è qualificato tutto bene quello che finisce bene ma adesso sempre doppi salti non può è sempre meglio di quella lì di guardarti solo a te stesso aaaaaaah ya bombardment qua è difficile qui ragazzi è impossibile è il più impossibile io sto fermo non faccio niente non salto io non salto non faccio niente al posto anche di saltare per sbaglio no io non salto guardate no veramente guardami guardate non sto toccando manco lo schermo sono soltanto muovendo il personaggio ma io non sto muovendo niente no ragazzi mi sa che devo saltare no non è vero mi stavo stavo scherzando non è vero c'è uno che vuole perdere per noi no devo saltare io ok infatti era rimasto dai uno che perda per noi dai grande grande alieno arancione guarda sarebbe bello che esce block dash perché vi voglio far vedere una bella cosa molto bella potete guardare eh mo vediamo se esce eh jungle roll mo eh block dash block dash non esce block dash lo stemple solo con doppi jump è impossibile dobbiamo purtroppo fare la ruota no ok ce la facciamo un po' aspetta andiamo piano ok ma io come faccio qua eh rega come faccio sono solo doppi jump come faccio rega con solo doppi no qua non non ci può riuscire nessuno ok ora da qua si deve fare ok no intanto si sta buggando no anche qua non vale rega non ce la possiamo fare ok adesso qua dobbiamo farlo per forza ok basta intanto se uno se uno quello possibilmente può perdere è per me grazie come ha fatto no vabbè rega cosa sono tutti ste si trick ruota dei colori ok ragazzi di nuovo sulla ruota giro fortunato dai dai qualcosa di buono per favore ok dai 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 iscrivetevi ok iscrizione è uscito il rosso potete vederlo è palesemente lì ragazzi iscrivetevi che questo video lo sto facendo e sto sclerando grazie alle challenge che escono ok rifacciamo perché questo era il bonus iscrivetevi e lasciate like ok vediamo ora cosa esce ora l'abbandoniamo no no ancora doppi jump ma dai è uscita prima va bene dai la dobbiamo rifare eccoci qua ragazzi siamo di nuovo su stumble guys iniziamo il matchmaking sempre doppi jump meno male paint splash vediamo un solo doppi jump mi sa che anche un po' impossible ah no perché lo start iniziale no non è tanto problematico perché lo faccio sempre con doppi jump ecco questo niente ho fatto un intanto sta laggando tutto non so cosa è successo questo è tanto ora lo faccio per forza con doppi jump corriamo vabbè come se vuoi che faccio con doppi jump voliamo da quest'altra parte e ce la dovremmo fare signori ce la possiamo fare ce la possiamo ok ci siamo qualificati in modo incredibile questo qui bravo con i doppi jump anche tu vedo che stai facendo la challenge pugno missato in un modo incredibile signori super rollo si è qualificato scusate si chiama super rollo quello lì ma è rimasto fermo dimmi che almeno sei qualificato dimmi no si è qualificato ma era fuori come ah mi sa che ha sbattuto sul palo poi ritorno lì indietro ha fatto l'effetto che non si era qualificato ok 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 forse come probabilmente avrete ho cancellato una notifica completamente a caso volevo dire come avrete sentito probabilmente prima e moblo e vabbè volevo dire devo andare a mangiare fra poco quindi devrò staccare il video al più presto possibile sono mio padre si incavola nero ok forse ci riusciamo niente perché gli altri ci riesce e a me no ok cerchiamo di non fare doppi quello lì come ci è arrivato scusate è giusto devo fare il doppio jump vabbè qua no non lo devo fare perché già col doppio jump intanto non so cosa sia successo dai per favore dimmi che ci arrivo che mi qualifico easy oh finalmente dopo questa partita ragazzi io chiudo il video dai per favore block dash dai che lo sto lo sto aspettando dai yay o comunque da una settimana che non mi esce block dash dai a me lo cambia cambia stumble guys sempre lava land esce lo stempo il jungle roll molto bene ragazzi comunque se vi state già chiedendo il perché non escono nuovi video come quello lì che vi avevo promesso quello del come si chiama il guinness world record è che non ce la faccio ragazzi block dash non esce sempre cioè volevo dire come si chiama sta mappa ecco jungle roll non esce praticamente quasi mai e arriviamo al punto dove devo purtroppo come sempre non ho tanto tempo ne dire in poche parole non ho tanto tempo ah intanto questa giusta è la finale oh zitti zitti che ci qualifichiamo non ci credo qualificato rega e per un attimo mi son dimenticato che era la semifinale mi stavo dicendo per no vabbè dai facciamola con calma tanto questa è la semifinale no ragazzi era la finale mi sono confuso mi confondo sempre ragazzi spero che intanto sempre sta pubblicità ok ragazzi vi ho un attimo tagliato la pubblicità e ritornati qua comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina come avete visto già dalla dalla ruota della fortuna comunque ripeto spero che il video vi sia piaciuto Danico è tutto e out e out